Per me è particolarmente facile parlare di Emanuela Romano perché è una persona che apprezzo, che stimo e che credo che sia davvero la candidata giusta a Palazzola dello Stella. Perché è giusto? Non solo e non tanto perché è donna e sarebbe già sufficiente, ma perché davvero fa parte di questo Paese, lo conosce bene, sa esattamente quali sono le esigenze degli abitanti, sa anche qual è l'obiettivo di crescita di un Paese così importante anche per il nostro territorio e soprattutto ha la capacità e la passione per fare ancora politica come servizio e non come esigenza personale. Per me è veramente un particolare piacere invitarvi a votare Emanuela Romano, sindaco di Palazzola dello Stella ed è un particolare piacere invitarvi anche a convincere tante persone che è il sindaco giusto. Grazie a tutti.